Buongiorno a tutti, mi chiamo Diego e sono il direttore accademico di EF Londra. Oggi sono qui per parlarvi del metodo più efficace per diventare bilingue, del metodo EF e anche dell'esperienza che gli studenti hanno quando sono qui e partecipano a un corso EF. È possibile fondamentalmente diventare bilingue grazie a un programma accademico all'estero. Diciamo che sicuramente ha dei vantaggi enormi seguire un programma accademico all'estero e il bilinguismo dipende ovviamente dal punto di partenza, da quanto tempo si passa in realtà a fare un corso e anche dall'impegno dello studente stesso. Però effettivamente è possibile raggiungere un livello di proficiency che è pari a quello di un native speaker. Qual è il nostro approccio? Allora, lo sviluppo ovviamente accademico e la garanzia di miglioramento sono alla base della metodologia. La metodologia che EF usa è una metodologia chiamata Communicative Language Teaching. Quindi diciamo che la traduzione sarebbe il metodo comunicativo. Vuol dire che tutti i vari aspetti della lingua, la grammatica, listening, speaking, reading and writing, vengono affrontati e c'è sempre un elemento di discussione tra i vari componenti della classe e quindi diciamo un incoraggiamento all'uso della lingua parlata. In questo modo si va a creare una confidence nello studente che parla sempre di più e mano a mano vengono poi effettuate tutte le varie correzioni anche diciamo per un modo per imparare a parlare in maniera più fluent e anche accurate. Quindi andando poi a vedere questi due elementi, andando quindi a incorporare l'elemento grammaticale nel parlato. Il metodo è stato disegnato anni fa ed è effettivamente un metodo per massimizzare il progresso trovando la sua espressione proprio nei programmi accademici di lunga durata perché il più lungo il percorso di più ovviamente si riesce a progredire. Per spiegare un attimo come in realtà tutto funziona, quando lo studente arriva, prima di arrivare viene fatto un placement test. Il placement test va a vedere quelle che sono le receptive skills, quindi listening and reading. Poi una volta che lo studente è qua, viene fatto quello che si chiama il speaking test per vedere quelle che sono le productive skills. Una volta che abbiamo quindi una fotografia della situazione a livello delle receptive and productive skills, riusciamo poi a guardare qual è il livello migliore dello studente. Ora, per quello che F fa è prendere i sei livelli della Common European Framework, quindi A1, A2, B1, B2, C1, C2, che serve un po' come dire il beginner, elementary, intermediate, upper, intermediate, advanced and upper, advanced. E quello che F fa è che fa una sottodivisione di questi livelli, quindi andando per esempio ad avere un B1, 1, B1, 2, B2, 1, B2, 1, B2, 2, eccetera, eccetera. Per completare un sub-level, quindi diciamo un B1, 1 per esempio, ci vogliono in media dalle 5 alle 6 settimane. Nei percorsi di lunga durata ogni 5 settimane infatti viene fatto un diagnostic test allo studente che va proprio a vedere il miglioramento sulle diversi componenti, quindi proprio sulla reading, su drama, su writing and sullo speaking. E quindi poi viene dato un feedback e anche diciamo per vedere quali goal, quali obiettivi lo studente ha, ma anche quali sono le componenti che magari sono le componenti più deboli e sulle quali lo studente dovrebbe lavorare un po' di più. Quindi diciamo che è un metodo olistico che va a vedere tutte le componenti e garantisce il suo progresso proprio perché c'è un livello di monitoraggio. La seconda colonna portante del metodo ovviamente è l'uso pratico della lingua, quindi l'essere nel campus, l'essere comunque circondato da un ambiente in cui si respira e si vive solamente in inglese per esempio e quindi anche andare a vedere qual è l'uso naturale della lingua. Maggiore a livello diciamo che più alto è il livello di inglese ovviamente migliore è poi anche il processo di naturalizzazione, quindi dove poi l'apprendimento va un attimino a guardare sul qual è o meglio qual è l'aspetto della lingua che un native speaker userebbe. Come è la stessa frase per esempio che un native speaker userebbe per esprimersi e quindi proprio un processo di naturalizzazione che va visto dal punto di vista sia della sintassi che della pronunciation, che della pronuncia e ovviamente di tutti i vari idioms. Quindi gli studenti vengono coinvolti sia a discutere che analizzare le situazioni reali perché effettivamente si trovano a vivere in un contesto in cui devono gestirsi. E quindi da aprire un conto in banca, ad andare in panetteria, ad andare a mezzi di trasporto, a chiedere informazioni, a partecipare a meeting piuttosto che incontri universitari o preuniversitari. Quindi proprio situazioni reali in cui l'uso della lingua non è quello che si è studiato necessariamente sul libro, ma è proprio un esprimersi per farsi capire e per riuscire ad aggiungere determinati obiettivi. La terza colonna portante del metodo è ovviamente l'impiego di un metodo integrato. Quindi abbiamo un metodo che si focalizza sia sul libro di testo, questo viene chiamato blended learning, quindi sia sul libro di testo che ovviamente anche tramite workshop comunicativi, presentazioni PowerPoint e agli studenti stessi vengono anche chiesti di fare determinate presentazioni o di lavorare in gruppo, di scrivere, quindi c'è una sorta anche di c'è un livello pragmatico, ecco, c'è una componente pragmatica che è importante tanto quanto la componente di studio mnemonico e grammaticale. EF offre diversi tipi di corsi, a seconda anche di quali sono gli obiettivi che lo studente vuole raggiungere, quindi dai corsi intensivi per chi desidera massimizzare l'apprendimento, dai corsi generali, ma anche ai corsi preuniversitari, per esempio, per gli studenti che vogliono entrare in un programma universitario, sia per una laurea triennale che per una laurea specialistica. Programma anche multilingue in cui magari vengono fatti tre mesi in Francia, tre mesi in Spagna e tre mesi in Inghilterra per andare ad apprendere più lingue. Corsi di business English, quindi magari per studenti che hanno, diciamo, degli obiettivi un po' più corporate, o magari anche un attimino degli obiettivi un po' più lavorativi, i programmi che prevedono anche lo svolgimento di uno stage come parte del corso. Quindi una varietà di percorsi formativi anche in base a quali sono gli obiettivi da raggiungere. Quello che riusciamo a fare è garantire il progresso, e riusciamo a garantire il progresso proprio per questo continuo monitoraggio di cui parlavo precedentemente. Quindi riuscire comunque anche ad avere, diciamo, un piano e andare poi, ovviamente lo studente deve metterci del suo, ovviamente lo studente deve studiare, ma riusciamo anche un attimino, diciamo, a monitorare il tutto ed essere sicuri di avere un apprendimento sotto tutti i vari tipi di aspetto, perché ovviamente c'è magari l'apprendimento lessicale, c'è poi l'apprendimento grammaticale, c'è poi quello di avere una pronunciation migliore. Quindi sotto tutti i vari aspetti. Per coloro che scelgono anche il metodo intensivo ci sono anche lezioni di specifico interesse, e agli studenti c'è anche una possibilità di avere accesso a una nostra rete intranet, in cui ci sono dei vari tipi di lezioni su diversi interessi che variano dalla medicina a legge. L'aspetto, secondo me, anche molto importante del nostro percorso è l'affiancamento di un tutor e quindi di avere un insegnante che riesce a monitorare tutto lo sviluppo stesso dello studente e anche per dire i progressi linguistici e qualsiasi altro tipo di obiettivo che lo studente ha. Questo riesce comunque ad avere degli obiettivi che siano chiaramente definiti e non solamente degli obiettivi un po' vaghi. Quindi tutti gli studenti che partecipano a un percorso di lungo-media durata fanno anche parte della loro esperienza, anche fare parte in determinati progetti, sono dei school projects che vengono assegnati, e possono essere sia lavori individuali o delle componenti individuali o delle componenti in gruppo per in realtà riuscire proprio a fare in modo tale che lo studente riesca a usare la lingua in real life settings e ancora una volta diciamo distanziarsi da quello che è un apprendimento solamente mnemonico e a quale in realtà non crediamo. E questo diciamo che a parte, in inglese diciamo on top of this, quindi a parte tutto ciò che ho detto, un'altra diciamo un altro vantaggio molto importante è quello per lo studente di prendere atto e di partecipare alle varie attività che la scuola organizza. La scuola organizza attività settimanali che possono variare da per dire da il giro a Camp and Town, piuttosto che a Kensington Palace, quindi un po' nel quartiere, ci sono delle attività che sono completamente free, che sono gratuite e delle attività invece che magari costano un prezzo perché prevedono per esempio l'uso dei trasporti come andare a Cambridge o andare a Oxford a visitare la città per un giorno. Ecco anche questo aspetto del partecipare all'attività con altri studenti in realtà fa molto perché la studente si trova in situazioni reali in cui deve parlare inglese e si trova anche diciamo a riuscire a prendere anche l'aspetto più culturale della nazione che forse è qualcosa che non si può necessariamente imparare sui libri. Questo diciamo è un po' quello che facciamo qui alla scuola F di Londra e anche nelle altre scuole F. Per qualsiasi altra informazione contattate EF Italia e qualcuno del team riuscirà a darvi maggiore informazione al riguardo. Grazie mille, arrivederci. Grazie. 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 Grazie.